Ciao, il mio nome è Alina e sono qui per portare la mia testimonianza sul corso che ho fatto con Patrizia sul risveglio del potere interiore che dire, è stata una giornata bellissima, con un'energia molto forte, dove sono successe delle cose fantastiche a distanza di giorni, adesso dopo qualche giorno, sento l'energia sempre di più, sempre più forte quindi i benefici di questo corso stanno continuando sono molto felice di aver partecipato perché veramente sento che qualcosa è cambiato sono tornata a casa con una consapevolezza nuova e con un animo più leggero anche sono molto felice, grazie di tutto Patrizia, sei veramente fantastica